Bentornati sul canale Sono Italiano. Oggi con le ultime notizie come Clizia in Corvaia ha stupito i fan dopo averli resi partecipi di qualcosa che stava ormai pensando da diverso tempo. L'ha denunciata e continueranno così finché non finirà.La neo mamma e compagna di Paolo Ciavarro sta vivendo un momento magico dopo la nascita a fine febbraio di Gabriele. Primo figlio per la coppia e secondo per Clizia che è già mamma della spien di Danina. Clizia in Corvaia è una bellissima donna e mamma e ha conquistato il cuore del pubblico con il suo sorriso splendente e la voglia di farsi conoscere per quello che è. In questi ultimi mesi ha dovuto subire qualcosa che non le è proprio piaciuto. Questo perché, finché si tratta di offese a lei ok ma quando riguardano altro non può più accettare. Non tollererà più nulla riguardo al figlio e scattata la denuncia. Di cosa si tratta? Clizia in Corvaia, non tollererà più tali comportamenti. Clizia in Corvaia sta crescendo insieme al compagno Paolo Ciavarro il loro primo figlio e la coppia ama condividere i momenti quotidiani con i suoi fan. Soprattutto l'influencer ha reso partecipi i followers dei progressi del suo piccolo. Qualcosa però ha cominciato a diventare davvero esagerato e così ha deciso di passare alle maniere forti. Avere una posizione di rilievo espone sicuramente sia a commenti positivi che negativi ma esiste comunque un limite oltre il quale non è più critica o offesa ma ha reato. Il percorso di Gabriele, che Clizia in Corvaia ha scelto di rendere pubblico, aveva la missione di portare gioia ma dato l'esito e la cattiveria dimostrata ha denunciato. Di chi si tratta e cosa è successo nello specifico? La denuncia ufficiale Clizia in Corvaia non ha accettato le critiche eccessive sul come, lei e Paolo, stiano crescendo il loro primo genito. Ha spiegato, anche per via di accanimento da parte di una stalker che tramite diversi profili li attaccava, di aver deciso di procedere per vie legali. Continui attacchi sul bambino o critica che da pseudopediatri non saranno accettati. Negli ultimi mesi gli haters hanno offeso in maniera davvero pesante ogni loro mossa fino ad arrivare all'ultima e cioè lo svezzamento. Un polvrone si è alzato e una pioggia di commenti hanno reso ancora più forte la scelta di procedere contro chi lede la loro serenità. Nel mirino ora una hater che però, come dimostra la foto di seguito, otterrà la condanna che merita. Noi vogliamo dire alla bella Clizia in Corvaia che l'amore e l'impegno messo nel crescere i figli è palpabile ed ammirevole. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao. Ciao.